Ma cos'è successo a Rita Queen Jay? Negli ultimi giorni la community si è molto preoccupata per le condizioni di salute di Rita Queen Jay poiché prima si è mostrata su Trez e successivamente su TikTok con la faccia praticamente bendata Dalla foto è possibile notare che abbia addirittura il labbro gonfio e moltissime persone hanno chiesto cosa le fosse successo Rita ha quindi spiegato in un video su TikTok che accidentalmente ha sbattuto contro un mobile Questo le ha provocato una ferita abbastanza profonda e ha dovuto mettersi dei punti Questa però è stata proprio la ciliegina sulla torta poiché già giorni prima ha avuto la febbre Quindi diciamo non ha passato proprio un bellissimo periodo ma speriamo che molto presto si riprenda e stia meglio Fateci sapere cosa ne pensate dalla redazione di Webbo per oggi è tutto